Sì, sì, può anche essere che ci sia stata la giusta reazione dopo essere andati sotto, però a me è piaciuta la reazione, lo stare in campo, il voler giocare, la consapevolezza di poter ribaltare il risultato, questa è la cosa più importante. E la crescita costante di questo gruppo sta crescendo. Sì, sì, con qualità, con consapevolezza, con personalità, messa nella propria metà a campo, il termine non è facile venire qua e fare un certo tipo di partita. Noi l'abbiamo fatto e faccio i complimenti ai ragazzi perché sono dei bravi a interpretarla bene. I complimenti vanno anche a Caracciolo, è arrivato a 200 gol, tre professionisti con una bella doppietta. Sì, sì, faccio i complimenti a Caracciolo perché è un traguardo che mi stava inseguendo e l'ha raggiunto. Ma la cosa più importante è la crescita della squadra, insieme alla squadra, la crescita di Caracciolo, e anche del gioco che in questo momento sta crescendo. Però secondo me ci sono ancora dei margini di miglioramento su cui dobbiamo lavorare. Ci godiamo questa vittoria. Pensiamo già a martedì domani e martedì in Coppa Italia e poi sabato con la minorete. Sì, 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 sì.